Ben ritrovati con l'appuntamento del Buonasera a lunedì, parleremo dunque di sport, abbiamo lo studio gremito, possiamo dire così, nel nostro piccolo, abbiamo atleti, dirigenti di società sportive, nostre locale, come cerchiamo di seguire ogni lunedì, parleremo di tennis tavolo col bel torneo che c'è stato al San Pier di Canne, al Palazzetto dello Sport e poi parleremo di calcio, soprattutto Serie D con appunto il dirigente della Lavagnese, ma andiamo subito a presentarvi gli ospiti, qua vicino a me Diego Lorenzutti che è il presidente del Villaggio Sport Tennis Tavolo insieme a Simona Dani che è il direttore sportivo della Lavagnese, grazie per essere qua e poi abbiamo tre atleti, campioncini del tennis tavolo del Villaggio che appunto appena hanno partecipato a questo torneo, vogliamo fare il giro dei nomi, dai col microfono come vi chiamate? Alessandro, Gabriele e poi una ragazzina? Giada, benissimo per essere qua, Diego un giro veloce su dovessi darti un voto alla manifestazione, è andato tutto bene, siete rimasti contenti, l'impegno è stato sicuramente notevole? L'impegno è stato notevole, però il risultato è stato valido nonostante che questo fosse un torneo di quinta categoria, quindi non altissimo come è stato fatto già in due anni a questa parte che abbiamo fatto il nero, quindi il torneo top diciamo di taglia, però questo ci è servito proprio per far giocare dei ragazzini come appunto nelle immagini si vedono e far giocare il più possibile, quindi abbiamo addirittura sdoppiato i gironi in modo tale da far giocare il più possibile le persone, perché questo conta anche nello sport, ecco far provare e vedere uno sport piuttosto che un altro. Bene, vi siete già riconosciuti? C'è la microfono, Giada, com'è andata per te? Per me è andata bene. Ti sei divertita? Sì. Quante partite hai fatto? Sei. Sei partite? Caspita! E com'è andata? Molto bene. Ti sei divertita? Via. Sì, molto. Vediamo poi i tuoi amici qua. E invece tu? Io mi sono divertita tantissimo, mi è piaciuto molto e ho fatto tre partite. Tre partite, poi finiamo, poi qualcosa vediamo di voi, e invece come? Io sono andata abbastanza male, ho giocato solo due partite che ho perso, perché non ho fatto quello che dovevo fare, perché non mi sono spinto al massimo. Vabbè, sarà per la prossima volta, però sei contento di aver partecipato, è una bella manifestazione fatta nel palazzetto con tanti giocatori, come vedi lì. Sì. Ok, questo è? Sono io. Ecco, passa un po' il microfono. Vediamo un po', vediamo un po'. Vabbè. Eccoci, ti puoi commentare, eh? Sì, è stato divertentissimo, era emozionatissimo, mi sono divertita tanto. Bene, poi ne parleremo. Invece Simone, cosa dice di questi ragazzini che, insomma, non è facile, no? In mezzo a tante persone, perché poi te in stavolo sono quei sport singoli. Assolutamente, assolutamente, anzi, un po' torno bambino pensando che anche io da piccolo giocavo al ping pong, no? Tennis tavolo è un po' il ping pong dei vecchi tempi. Al mare magari, no? Al mare, in estate, quando ero più giovane mi piaceva. E' sempre bello, perché la spontaneità dei bambini è sempre unica. Simone, passiamo su un campo, un rettangolo di gioco un po' più grande, l'erba sintetica ormai, non è nemmeno più l'erba di un tempo. Anche se è vecchia. Anche se è vecchia. Simone, è venita da questa sconfitta 2-1 in trasferta. Sì, ieri abbiamo perso con il forte Querceta, una partita che sinceramente fino a 20 minuti della fine, che stavamo vincendo, pensavamo anche di vincerla. Probabilmente nel compito della partita, nel risultato finale, qualcosa a noi manca, perché abbiamo avuto occasione di poterla chiudere, quindi abbiamo avuto un'occasione su 1-0 con l'attaccante, un altro ancora e probabilmente se avessimo fatto il gol del 2-0 la partita sarebbe totalmente finita. Invece abbiamo rimesso in corso loro su una pallina attiva, un errore secondo me anche nostro dal punto di vista difensivo e questo ha fatto sì che poi loro hanno preso coraggio e alla fine abbiamo preso con le 8 minuti della fine il gol del 2-1. Devo dire però che la squadra ha fatto una grande partita, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, è arrivata a giocare a questa partita qua contro una squadra che non perde le 13 partite, che è la squadra più in forma del momento. Noi abbiamo fatto comunque gara vera contro una squadra forte che però noi credo che siamo a loro livello e purtroppo gli episodi ci hanno condannato, ma il campionato è ancora lungo, abbiamo tempo e modo di poter recuperare quello che ieri abbiamo perso. E qui intanto vediamo delle immagini che si riferiscono a domenica prima che c'è stato il derby lavagnese Sesti Levante, Sesti Levante che ha fatto 1-1 in casa con il Ghivizzano. Insomma comunque quest'anno, ma come al solito la Serie D c'è sempre qualche sorpresa del mene nel male e non è mai un campionato semplice. Assolutamente, per adesso i valori ancora non si sono espressi del tutto perché credo che la Serie Mese è solo uscita ieri arrivando prima in classifica, la Serie Mese è quella che ha qualcosa in più, credo, di tutte le altre e il Ponsacco fino adesso, a parte le ultime due che ha perso consecutivamente, è stata quella che è un po' stata la sorpresa del campionato. Probabilmente la Massese poteva fare qualcosa in più, ma è ancora presto, mancano 15 giornate quindi i valori devono uscire totalmente. C'è ancora un mondo di partite? Sì, sono 45 punti disponibili, sono tanti, 45 punti disponibili se non sbaglio, 42 sono 14 partite, quindi io credo che c'è tempo da poter fare tanto sia per davanti, per la classifica in alto che anche nella parte bassa della classifica. Sì, in effetti giocavate con la terza in classifica ieri perché Sanremo 42, Ponsacco 40, Rialforte 38, Viareggio 37, Seravezza 35, Mastese 33, Lavagnese 31, siete subito dopo alle prime. Sì, probabilmente se avessimo vinto ieri avremmo tolto 3 punti a loro, 3 punti più a noi sarebbe significato essere a un punto dalla terza, che sarebbero postati loro, così non è stato e bisogna ripartire, bisogna ripartire domani subito, per forza, perché domenica prossima abbiamo una partita difficilissima in casa contro una squadra che deve salvarsi, che è la al Bissola 30 punti, Rigorna 28, segue Sessi Levante e Savona 26 punti, Rignanese 25, insomma la classifica a centro classifica è molto stretta, a parte Scandici e Argentina 9, 6 punti, poi insomma anche Montecatini, le altre dal finale in su sono nell'arco di 2 o 3 giornate, bene o male cambia completamente. Perché quest'anno il campionato rispetto all'anno passato è livellato in alto e non in basso, togli le ultime 3, tutte le altre sono squadre competitive, perché lo testimonio al fatto che la Rignanese ha vinto contro il Ponsacco, che è rimbattuta fino a due domani che fa, quindi tutto è possibile, la differenza la fanno le motivazioni nel calcio, soprattutto in questa categoria. Ritorniamo un pochino con Diego e raccontiamo un po' al di là dei risultati, un po' la manifestazione che è stata svolta, intanto mi raccontavi che sono quei concentramenti a livello nazionale, perché era un torneo nazionale. C'erano 4 tornei in contemporanea, uno nel nord e uno in meridione e gli altri due, uno da noi e l'altro a Firenze. Forse ha giocato un po' anche la città d'arte, per magari poter giocare e incontrare altre persone, però comunque c'è stata una buona presenza, si sono molto impegnati vari atleti, noi abbiamo messo in campo diversi atleti che comunque sono affluiti, Gabriele è arrivato avanti nel torneo, poi si è fermato, l'abbiamo visto prima, vinci guerra, che è stato il migliore dei nostri ieri, comunque il torneo era di quinta categoria, sia maschile che femminile, perché poi domenica, il maschile è stato fatto il sabato, mentre la domenica è stato fatto sia il doppio che il singolare femminile. e bellissima sorpresa, seconda, è arrivata seconda una ragazza genovese, undicenne, e quindi un bel risultato, è stato proprio bello. e tra l'altro al quinto set tiratissimo 11 a 8 nell'ultimo set, quindi proprio era possibile anche che riuscisse a vincere, nulla togliendo alla sua avversaria chiaramente, però qui vediamo appunto, abbiamo ratterizzato una mano quest'anno al discorso arbitrale, perché nei tornei più alti c'è bisogno di meno presenza di arbitri, perché la federazione riesce a inviarne di più, in questo caso invece erano meno in gioco, qui vediamo un altro nostro atleta che è un po' alla prima armi, però è tutta esperienza, perché in queste cose bisogna… Anche perché vedo che ci si confronta con persone anche adulte. Assolutamente sì, perché questo è assoluto e quindi non c'è una fascia d'età, non è un giovanile, quindi è proprio ognuno si confronta con atleti, ecco qui per esempio il Gabriele è proprio questo atleta che vedete, che è stato il migliore della società e qui stanno facendo un riscaldamento, perché prima dell'inizio della partita si fa un po' di riscaldamento sia ai giocatori che alla pallina, perché la pallina deve entrare in riscaldamento in modo tale che sia perfettamente tonda. Ecco Diego, cosa dici di questi tre ragazzini? Come fate a seguirli, a coinvolgerli, a far piacere il tennis tavolo? Allora non è facile, ecco non è facile perché è individuale questo sport e quindi essendo individuale avrebbe bisogno di un allenatore dedicato sempre a questa persona, quindi si cerca e facciamo in modo, fin dove è possibile, ma sarebbe da migliorare molto, il fatto di poter farli seguire da allenatori, noi li abbiamo diversi nella società e che anche possano potenzialmente anche seguirli nei tornei, che sono dislocati in vari parti del nord Italia, per non esagerare. Però chiaramente l'esperienza vuole dire fare tanti tornei, perdere tante partite, per comunque riuscire poi a incamminare dell'esperienza che ha fatto sì che l'atleta di più anni è riuscita a sopravvalere alla ragazzina nella finale femminile, ecco questo è quanto. Allora vediamo un pochino voi due cosa mi raccontate. Tu? Tu hai iniziato o quando hai iniziato a giocare a tennis? Io ho iniziato a giocare a tennis tavolo tre anni fa, che non si può ottenere praticamente neanche la racchetta in mano. Invece adesso sei già bravissimo. Sì, adesso sono bravissimo. E quanti anni hai? Undici. Undici. E hai iniziato tre anni fa, insomma otto anni. No, nove. E cos'è che ti ha spinto a andare a fare questo sport? Perché al mare giocavo a tennis tavolo con mio padre e mi ha sempre... volevo provare e... Tuo papà è un appassionato? No, mio papà non... non è tanto appassionato, però ci si mette quando vuole aiutare anche. Ti alleni anche con papà dai? No. No, no. Almeno d'estate. Io ho la passione è stata da mia madre che gioca e... Forse c'era anche a vederti se non sbaglio allora. Sì, che andavo a vedere un po' i suoi allenamenti e mi piaceva anche al mare quando... quando eravamo al ping pong, al tavolo. E tu invece quanti anni hai? Nove. Nove. E Giada? Dieci. Dieci? Dieci. Ma tu ti alleni con questi ragazzini qua? Sì. Chi vince? Loro. Vincono loro, eh? Non sempre però. Però hai fatto sei partite, hai detto prima. Sì. Ciò vuol dire che... Nel Gironi, sì. Perché si va avanti, perché si vince, no? Sì. Nei Gironi, a secondo dei tornei, si può passare, non so, sono in quattro e poi passano i primi due oppure i primi tre su sei, eccetera. E poi dopo si fa l'eliminazione diretta, no? Simone, invece a livello giovanile, la Vagnese, in prima squadra, come siete... Abbiamo... C'è un'attenzione particolare, sì, a lanciare qualche giovane? Beh, quest'anno in pianta stabile, in prima squadra abbiamo... Abbiamo... Adesso mi sfungono se sono quattro o cinque e di cui uno gioca titolare quasi sempre, che è Bacica Lupo, Giacomo, che è di Lavagna, che è un 99, ha giocato anche il derby, come ruolo centrale difensivo, e gioca di fianco, copiato ad Avellino, quindi è un buon maestro di fianco, e devo dire che è un giocatore di prospettiva, tanto è vero che so che qualche persona già ha chiesto informazioni su di lui, è un giocatore che se vuole fare il gioco di calciatore ha le qualità da poterlo fare, è chiaro che deve migliorare tanto, ma ha l'attitudine del calciatore, mentale, fisica, quindi lui sicuramente è il primo prospetto sul quale la società ci può puntare per un futuro, per quanto riguarda gli altri c'è il 2000 terziano sinistro centrale Daniele Martino, poi c'è Leonardo Celerio attaccante anche lui 2000, il portiere Giannelli 2000, che sono tutti in pianta stabile prima squadra, sta crescendo molto bene anche il centrale difensivo Queirolo, Cristian, che anche lui 2000 centrale difensivo, sono tutti nella New York, però sono giocatori che possono fare qualcosa se vogliono fare qualcosa, perché i giovani d'oggi dipendono da loro, se vogliono fare qualcosa hanno la possibilità di poterlo fare perché hanno dei buoni maestri. E sì, ci vuole anche impegno, bisogna dedicarsi. Il calcio è una cosa abbastanza... Ma anche perché si devono allenare, voi quanto vi allenate al tennis? Io mi alleno cinque volte alla settimana. E sono tanti, quasi tutti i giorni, dai. Io una volta perché è martedì, sono occupato. Sei occupato, sentiamo anche la giada, dai. Io una volta il martedì. E poi più tutte le partite, Diego, i tornei, ci sono degli appuntamenti, no? Sì, sì, sì. Infatti poi la mamma di Gabriele gioca in B, perché abbiamo la B femminile, abbiamo la C1 nazionale, la C2, la 2 di 2, 2 di 1 e 2 di 3. E quindi a seguire... È un bel impegno perché poi le squadre sono fatte da tre giocatori che giocano, diciamo, più la mamma presente. Che sta a vedere cosa succede. E poi appunto è sempre un consiglio di dare, di cercare, perché poi il tennis tavolo, a parte che è bellissimo che ci sia il mare, che ci sia queste cose, poi rientra appunto la tecnica, il lavoro duro, perché poi bisogna allenarsi. E tutto parte dalla testa, soprattutto dalle gambe e per ultimo il braccio. Sembra un po' paradossale, però in realtà il braccio viene per ultimo, perché poi tutto si svolge in pochissimo tempo. Adesso con le partite agli 11 non c'è tempo quasi di... Se stai a ragionare il punteggio hai già perso. Hai già perso, bisogna... Diego, vedo che tu sei sempre in pista, anche Gabriele Ascione, insomma, siete un po' come il Presidente Stefano Compagnoni, che tantissimi anni... Sono 18 anni che il Presidente è al timone della Lavagnese, di cui 16 consecutivamente in Serie D. È un bellissimo risultato comunque, perché tanti anni ho visto che c'era il campo di terra, mi ricordo, la prima categoria. C'è stata questa cavalcata e la Lavagnese è sempre stata... Io credo che la città di Lavagna deve tanto, non solo a Stefano, ma anche alla famiglia, perché probabilmente se non ci fosse lavoro non so se... Anche perché è sempre più difficile essere a capo di una società sportiva, Diego. Tu è tanto anche che ci sei. Sì, io adesso... Al villaggio te ne sei. Allora, il villaggio in generale, da quando è nata la società, adesso festeggiamo i 44 anni quest'anno, quindi sono veramente tanti e una buona metà che sono Presidente della società, però si è modificato molto e quindi dicevo prima dell'inizio della trasmissione è diventato molto più burocratica la cosa, molto più complessa. Come in tutte le cose si è complicata queste cose. Come in tutte le cose si sono complicate, questo non toglie che per esempio con il Consiglio Direttivo l'anno scorso ci siamo dati l'indirizzo di spenderci, non tanto in denaro ma anche nei giovani, di puntare sui giovani, ma non tanto che poi se viene bellissimo il campione in assoluto, ma comunque far provare a più ragazzini possibile questo sport, perché poi ognuno deve trovare il suo spazio. Simone, invece è come la vita di un direttore sportivo in una società come la Lavagnese, gli impegni? Gli impegni sono quotidiani, sono quotidiani dalla mattinata fino alla sera, perché bisogna sempre stare aggiornato su tutto, sui giocatori giovani, su quelli vecchi, se così si possono chiamare, e cogliere le occasioni migliori a dei prezzi possibilmente abbordati. Ma è diventato una cosa incredibile anche nelle categorie superiori, si parla che sono giuste in Serie B, la Virtus Entella, adesso c'è la finestra aperta, perciò c'è sempre un'uscita, un'entrata. Il mercato del calcio… Per chi deve gestire queste cose non è semplice. Sì, il mercato del calcio, sia fino alla Serie D, che poi nei professionisti della Lega Pro in Serie A, è aperto nelle due finestre, quella estiva e quella invernale, ma in realtà non è mai aperta solo in quelle due finestre lì, ma tutto l'anno, perché comunque per arrivare a prendere un giocatore a giugno devi delle volte partire anche a gennaio, e così viceversa, per prenderlo a gennaio devi partire a giugno. giugno, i contatti nel calcio sono quelli che fanno la differenza, quindi giorno e notte delle volte bisogna essere operativi. Poi a volte secondo me ci sono anche tante uscite, entrate, poi magari anche con giocatori che si possono equivalere, ragionate tanto per prendere uno, dopo due mesi magari lo cambiate, o avete ragionato prima o sbagliato, o dopo, non lo so. Io dico sempre che nel calcio le operazioni, questo non lo dico io, ma lo dice un direttore sportivo che era Roma, che era il Siviglia fino all'anno scorso, che per me è un grande direttore sportivo, non esistono mai operazioni sbagliate, ma sono operazioni che non sono andate a buon fine, che nel significato della parola c'è tutto. certe volte ci sono giocatori che rendono, che sono validi e rendono, certi giocatori invece sono validi e non rendono, magari vanno da altre parti e magari giocatori che hanno meno nome rendono di più, dipende sempre in quale contesto si possono trovare e in quale situazione logistica, calcistica si trova nel contesto. Cioè le persone non sono macchine, non le riesci a mettere. Io ho visto tanti giocatori arrivare in un posto con credibilità pazzesca e magari fallire e certi giocatori magari che arrivano in certi ambienti senza tanta credibilità o magari come seconda, terza, quarta, quinta scelta e poi invece alla fine della fiera sono stati quelli che hanno fatto un'operazione di uscita migliore rispetto alle altre, ma questo fa parte del calcio, è una cosa comune e costante. C'è il rischio in tutto questo di perdere un po' i punti di riferimento, la gente non riesce a affezionarsi tanto perché poi c'è molto cambiamento. Sì, questo fa parte del calcio, ma anche nelle prime squadre di Serie A. Sì, affezionarsi ai giocatori si affeziona come amico, ma nel calcio l'amicizia e il lavoro non vanno di pari passo. Ormai si si affeziona al risultato, mi dà l'impressione. Sì, il risultato fa parte del calcio e molte volte è un po' tutto, uno lavora la settimana per arrivare al risultato e quindi il risultato è quello che poi dà l'impronta della settimana che si va ad affrontare e soprattutto al lavoro quotidiano degli allenatori e dei giocatori. Uno può lavorare bene per un anno, non vincere mai e molte volte è come vanificato il suo lavoro e viceversa. Ti interrompo, siamo quasi alla fine, diamo due risultati di basket, visto che sono arrivati in studio. Cominciamo dal settore femminile, Polisport-Lavagna 45, Rifredi-Firenze 43, dunque vittoria delle ragazze di Lavagna, in C femminile giocava Cerel Derby, Villaggio contro l'Aurora Basket Chiaveri 32-59, vittoria del Chiaveri. Poi in C Silver, vedevano Tigulio Sportim e Cus Genova, Cus Genova. Sportim 65-51, Ardita Juventus Aurora Basket 64-58, perde sia il Chiaveri che Santa Margherita Ligure. Poi nella serie D, girone unico, Villaggio Basket Genova Interglobo 56-62, perde in casa il Villaggio che vediamo in queste immagini e il Volley Club Sanremo Basket e Volley Sanremo, Val Petronio Basket 58-66, in questo caso c'è la vittoria del Casarza Val Petronio in trasferta. Ecco, questo era un flash e siamo praticamente quasi in chiusura, facciamo ancora un giro di saluti. Diego, allora cosa prospettate, qual è il prossimo appuntamento? Stiamo cercando di organizzare i provinciali, sabato e domenica se volete venire alla palestra Luzzati, sabato abbiamo nel pomeriggio i campionati e quindi c'è tutto il pomeriggio a disposizione per poter vedere e poi abbiamo tutti gli allenamenti, ecco perché è tanto da vedere questa cosa e quindi ci si appassiona vedendo come avete sentito e quindi è bello che venga la sera, tranne il martedì praticamente tutte le sere ci siamo e così anche sabato mattina, ecco, quindi chi vuole venire. Bene, allora saluto in tribuna di dietro, allora per te come ci lasciamo? Allora buon studio perché andrai anche a scuola, no? Che classe fai? Faccio la prima media. Prima media, allora non solo te in stabolo ma anche bisogna studiare, va bene? Gabriele? Grazie. L'hai detta a qualche tuo amico di venire a vedere, di iniziare a giocare anche lui? Ci ho provato. Ci hai provato, provaci ancora, così fate una bella squadra, una bella squadra forte. E salutiamo anche Giada. Invece Giada cosa fa? Che scuola fa? Io la quinta elementare. Saluto un po' tutti i tuoi amici della quinta elementare. Ciao. Dove è la quinta elementare? Alle Mazzini. Alle Mazzini. Invece Gabriele? Io vado in quarta e vado alle Solari. Ecco, anche tu saluta tutta la classe, dai, ok? Io vado alle Mazzini, anch'io, e poi in prima media. Bene, bene. Allora salutiamo tutti i vostri amici di scuola. Simone, invece tu ci saluti lo scuogliattoio, anche Gabriele è venuti, è la prima stagione ma mi sembra molto calato nel ruolo, no? Allora, sì, è stata una stagione particolare, abbiamo avuto anche tanti infortuni e devo dire che lui, Gabriele, il mister e lo staff hanno dovuto lavorare delle volte anche in situazioni abbastanza difficili perché mi ha avuto tanti fortuni, però insomma noi conoscevamo già il valore del mister perché lo conoscevamo dagli anni dietro quando lui faceva le giovanili, sapevamo che era pronto per poter fare questo passo e devo dire che dall'inizio dell'anno oggi è migliorato anche nelle sfaccettature, nelle piccole cose che servono per poter completarsi e se lui vorrà fare qualcosa nel calcio come allenatore sono convinto che potrà farlo perché ha passione e soprattutto è uno che si aggiorna e ha voglia di migliorare, la cosa fondamentale nel calcio è voler migliorare, lui vuole farlo, vuole provarci a farlo, sono convinto che potrà farlo. Bene, allora grazie Simone, anche un buon campionato a te e ai direttori sportivi che tutto questo lavoro dietro le quinte che è molto importante come abbiamo anche capito questa sera, lo saluto ai ragazzini di tutto il tennis e villaggio sport, grazie a Diego, grazie alla regia, a Giovanni Castello, Stefano Neuod e noi per lo sport all'anno di prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.